Buonasera, ben trovati al programma elettorale di Primo Canale, buonasera anche all'assessore regionale alla protezione civile, ma in questo caso soprattutto all'ambiente, anche se in questo argomento le deleghe direi che molto si toccano, Giacomo Giampedrone, grazie di essere con noi. Buonasera direttore. Andiamo verso l'emergenza dal punto di vista della siccità, com'è andata la riunione di oggi? Direi che c'è un dato chiaro ed è un dato in progresso negativo purtroppo, cioè è stata dichiarata l'alta severità idraulica che è uno degli elementi fondamentali per poi arrivare a compilare le schede, fare un piano di prima emergenza e quindi a chiedere anche per la Liguria lo stato di emergenza. È stata dichiarata su tutto il territorio della Liguria, il che anche non era scontato perché davamo già quasi per certo che lo fosse dichiarata a ponente questa alta severità, non era così scontato su Savona, su Genova e sul resto del Levante della Liguria e quindi nelle prossime ore già coi gestori nella giornata odierna stiamo preparando tutta l'istruttoria per chiedere anche noi come le prime cinque regioni d'Italia hanno già fatto, quelle soprattutto del bacino del Po nei giorni scorsi, il riconoscimento dello stato di emergenza. Quindi vi aspettate un decreto del governo su questo? Ci sarà un decreto del governo che diciamo sarà il contorno della gestione dell'emergenza, vedremo se con un commissario nazionale e tanti commissari regionali che sono spesso ovviamente nelle vesti dei presidenti di regione, degli assessori di protezione civile e poi ovviamente i singoli piani di azione di ogni regione per le quali verrà dichiarato lo stato di emergenza, esattamente come si fa quando abbiamo un'emergenza di protezione civile, un'alluvione, un'esondazione, una frana che abbiamo visto tante volte nel nostro territorio. Ecco mi faccio un po' capire come si procede, nel senso che non avendo il potere, avete tanti poteri, ma non avete il potere di far piovere, non avete il potere di recuperare l'acqua che acquedotti con la brodo in certi casi hanno perduto nel corso dei mesi e degli anni, allora in cosa potrà consistere l'intervento del governo? Abbiamo già sentito di un super commissario, però ci vorrebbe Giove Pluvio più che un super commissario. Beh direi che Giove Pluvio sarebbero assolutamente necessari e questo in tendenza è il dato più negativo che vediamo, di qua a settembre non ci sono grandi cambiamenti come ci dicono i nostri tecnici di ARPA. Tenga conto direttore che su Brugneto siamo a un quantitativo d'acqua che più o meno si ha nella media a fine agosto, metà a fine agosto e siamo però all'inizio di luglio, quindi siamo con circa 40 giorni di anticipo in negativo e al momento dobbiamo valutare con i soggetti gestori alcune azioni immediate che si possono mettere in campo subito, ovviamente atti a scongiurare o comunque a limitare il più possibile il razionamento dell'uso idropotabile dell'acqua perché poi è il primo degli elementi di protezione civile che dobbiamo fare. Non rinascondo che se ci fosse all'interno del decreto una certa semplificazione per arrivare anche a ottenere nuovi invasi piuttosto che tubi accelerati, lei sa che nel ponente noi siamo portatori di circa 27 milioni di fondi PNRR che però stanno dentro le regole che non sono così accelerate del piano nazionale di resilienza, io credo che non sarebbe una soluzione efficace su domani mattina ma sarebbe sicuramente molto efficace da qua ai prossimi mesi, ai prossimi anni, visto che con i cambiamenti climatici non è che smetteremo di averci a che fare domani mattina. Ecco, esiste il rischio che alcune zone della Liguria, viste come dire il fatto che passano i giorni, le settimane e la condizione peggiora sempre di più, esiste il rischio che qualcuno possa davvero restare senza acqua intendo anche i rubinetti delle civili abitazioni? Io credo di no, in questo momento dobbiamo sempre però guardare quando si fa protezione civile la situazione attuale e la situazione in prospettiva. Al momento direi che la tendenza sarà quella di uniformare quelle direttive che abbiamo già emanato, non impositive evidentemente perché non siamo ancora all'interno di un stato di emergenza, che dice ai sindaci di razionalizzare tutto ciò che non è idropotabile, quindi quello che non è necessario alla vita delle persone. Dopodiché è chiaro che se le condizioni dovessero continuare a essere queste per i prossimi 40-50 giorni, in linea teorica non si può estrudere di arrivare anche a una razionalizzazione dell'utilizzo dell'acqua. Non il rubinetto chiuso per tutta la giornata evidentemente, ma come già accade ad esempio in altre regioni, l'imitrofe al Po, ad esempio in alcune ore della giornata. Io mi auguro che queste azioni preventive possano scongiurare questa tendenza, ma ha detto bene lei in apertura di collegamento, se poi non piove anche queste azioni mirate ovviamente a fare in modo che l'emergenza possa essere allungata in senso positivo il più possibile, cioè che venga razionalizzata meno acqua, poi in tendenza ovviamente lasceranno il tempo che trovano. Per il futuro sarà possibile sedersi a un tavolo o più tavoli a livello sia governativo che regionale per trovare delle soluzioni più efficaci, considerando che la scarsità di piogge mi sembra diventata un fenomeno stabile dei nostri tempi, quindi credo che la politica e le istituzioni devono ragionare come questo sia un dato acquisito. Guardi che paragono alle nostre autostrade le condotte idriche e quindi come tale dopo il Ponte Morandi c'è stato uno scatto da parte dello Stato e da parte dei concessionari affinché le manutenzioni, affinché tutto ciò che non era stato fatto nei vent'anni precedenti fosse messo in campo e ancora oggi lo paghiamo. Per la parte idrica io credo che la situazione è più o meno la stessa, serve un piano Marshall, io ho suggerito al capodipartimento ovviamente sull'esperienza della Liguria di utilizzare il modello post-mareggiata del 2018 perché con quella mareggiata abbiamo riflettuto su quanto c'era da fare di opere a mare, l'abbiamo fatto con criteri di protezione civile, quindi criteri emergenziali, ma in poco meno di 4 anni abbiamo speso più di 500 milioni e abbiamo raggiunto il 100% dell'obiettivo e quindi significa che quando lo Stato vuole e mette nelle condizioni i territori di fare gli interventi si possono anche fare. Viceversa ci troveremo in condizioni sempre peggiori rispetto a quella che viviamo oggi perché non credo che la tendenza, come abbia detto lei, sia in miglioramento, anzi. Senta, assessore, ha visto certamente anche lei quello che è successo sulla marmolada, siamo ovviamente ancora in attesa di sapere chi siano le persone che stanno sotto quel drammatico incidente in montagna, speriamo che non ci siano dei nostri, come si dice, ma non è che la cosa cambi, ovviamente, sono sempre vite umane. Portate via da un fatto drammatico, da assessore alla protezione civile, che effetto le fa quando vede situazioni simili pensando che voi siete abituati purtroppo ad agire in situazioni di emergenza come quella? Intanto mi faccia unire al cordoglio, l'abbiamo già espresso ieri, l'ha fatto il presidente Totti, di tutta la protezione civile regionale per le vittime, i familiari e ovviamente per nell'augurarci che i dispersi possano non rimanere tagli. Dopodiché è chiaro che queste situazioni sono sempre difficili da digerire, ma lì c'è un dato molto chiaro che stanno commentando i tecnici, non gli osservatori esterni. Quel ghiacciaio non ha mai avuto una temperatura così alta e quindi dobbiamo assolutamente riflettere che siamo già oggi dentro un tema di cambiamento climatico che è veramente molto impattante. Se la smettiamo di parlarci sopra e ci mettiamo forse a ragionare sul fatto che anche in Liguria oggi noi viaggiamo a 0,5, un grado di più rispetto alla media degli anni passati. Qualcosa vorrà pur dire. Su quel ghiacciaio ieri si è toccato i 10 gradi e di notte non si scendeva sotto i 5. È evidente che siamo di fronte a fenomeni sempre più impattanti a cui la politica in generale, anche di fronte a queste immani tragedie, deve provare perlomeno a dare delle risposte perché se no io credo che la tendenza sarà sempre più negativa. Se noi stiamo fermi così come siamo, credo che la soluzione non arriverà certamente dal prima che ci possa dare una mano perché ci siamo ampiamente dentro a questi cambiamenti climatici. Però non è un po' l'impressione che questo tema sia un po' tirato da una parte all'altra. Greta Thunberg è oggetto spesso dell'ilarità dei suoi detrattori, poi scoppia la guerra in Ucraina e viene abbastanza automatico di dire ma lo vedete tutta questa attenzione al green poi non è sostenibile, dobbiamo trovare delle soluzioni che servano per approvvigionarci di energia. Poi cade il ghiacciaio della marmolada e torna fondamentale. Oggettivamente poi chi osserva questo balletto non resta colpito in modo molto positivo. Credo che lei abbia perfettamente ragione direttore. Poi però chi fa la protezione civile e a volte richiama i rischi anche in situazioni dove magari questi rischi non sono così evidenti a volte si sente prendere in giro. È come quando noi in tanti anni insieme a voi abbiamo spiegato l'allerte meteo che non era un piacere come dire quello che era il nostro mestiere ma semplicemente era un avvisare qualcuno di una situazione di potenziale criticità. Credo che l'Italia debba fare uno scatto culturale in avanti, l'Europa in generale, ma mi riferisco al nostro paese. Troppo spesso parliamo di rischi quando questo rischio non si vede magari si viene, non dico irrisi, ma comunque non presi con le dovute attenzioni e precauzioni. Mi auguro solo che da questa tragedia si possa fare un passo avanti e che quelle vittime non siano morte in vano. Questo sarebbe già, per chi fa il mio mestiere, sicuramente un passo avanti rispetto ovviamente a una situazione che non doveva accadere ma che purtroppo è accaduta. Molto spesso commentiamo queste situazioni quando le cose sono già accadute. In questo caso credo che non ci sia nessun tipo di sottovalutazione umana ma invece c'è un tema grande, grande, grande che è quello della situazione climatica in quel territorio che non può assolutamente essere paragonabile a quello che in quel territorio accadeva fino a due, tre, cinque, dieci anni fa. Grazie mille Assessore Gianpedrone per essere stato con noi stasera e buon lavoro naturalmente. Grazie. Grazie. Tra poco torniamo in diretta e continuiamo la nostra serata politica. Stasera vedremo anche un po' gli sconfitti delle ultime elezioni amministrative a Genova. Sapete la questione delle elezioni comunali ma anche le elezioni municipali. Sono tante le figure di spessore che alle ultime elezioni hanno perso il posto. Le conosceremo e le ricorderemo tra poco. Ben ritornati al programma elettorale. Stasera abbiamo deciso di raccontare anche qualche storia negativa, potremmo dirla triste dagli occhi di chi la guarda, ma poi in politica si vince e si perde. Abbiamo parlato tanto delle vittorie, ora parliamo anche un po' delle sconfitte. Quella forse più clamorosa, una delle più clamorose, quella del municipio della bassa Valbisagno, Massimo Ferrante è stato lo storico presidente. Buonasera. Buonasera a lei a tutti gli sconfitti. Cominciamo da qui. Poi entriamo anche nelle cose che lei ha fatto anche di campagna elettorale o elettorali pure positive. Però la notizia è quella di una sconfitta. Lei l'aveva preparata dentro se stessa o è arrivata come una grande sorpresa? Guardi, le persone che mi hanno circondato e che hanno collaborato con me e si sono candidati con me sia nella mia lista che nel Partito Democratico, quindi più stretti collaboratori, sapevano perfettamente che quando io ho accettato di nuovo la ricandatura, una ricandatura assolutamente di servizio perché io avevo già due mandati alle spalle, è innegabile il fatto che il nuovo sistema elettorale prevedeva le elezioni dirette del presidente senza tra l'altro il ballottaggio. Ricordiamo che il municipio, da me per esempio, si perde per due punti, 45 a 47, ma se ci fosse stato il ballottaggio probabilmente potrebbe diventare anche un'altra storia. Ora, cambia il sistema elettorale, è chiaro che si è puntato su persone che avessero una visibilità ma anche un rispetto del territorio. La mia è stata una candidatura di servizio, io l'ho sempre detto che si sarebbe vinto o perso per l'1-2%, chi è attento alla politica sa fare i conti e io sapevo perfettamente qual era il quadro del mio municipio, 5 anni fa l'avevo vinto grazie alla mia lista personale che aveva spostato tra la mia lista personale e me, quasi il 7% di voti recuperando il gap dove Crivello già nel mio territorio aveva perso contro Bucci, io ero l'unico municipio amministrato a centro-sinistra che a livello comunale avevamo già perso 5 anni fa, 38 a 32, noi avevamo vinto con un quasi 39 e quindi come dire, sapevo perfettamente che la sfida era in salita. Non ho mai considerato il mio rivale come tale, nel senso che io ho sempre considerato il mio rivale né più né meno che il sindaco, perché sapevo perfettamente che la vera sfida era o far capire a più persone possibili che le schede erano due e quindi le scelte elettorali erano due, in elezione diretta del sindaco e il presidente del municipio, sapendo perfettamente che per molte persone ci sarebbe stata l'omologazione del voto. Ritenevo che con un delta tra i due candidati, nello specifico tra i due candidati maggiori, Bucci e dello astrologo, fino al 10% il nostro municipio ce la poteva fare, sopra quella cifra no. In realtà il delta da noi è arrivato al 19%, io ne ho recuperati il 17% di punti, tanto è vero che arriva un distacco di meno due. Il mio avversario diventa presidente con effetto trascinamento di Bucci, perdendo 2500 voti rispetto a Bucci, io perdo spostandone più di 2000, quasi 3300 tra il mio voto personale e quello della mia lista che ha preso l'8%. Insomma sono numeri che lei, come dire, io ero molto cosciente della situazione, potevano portare alla vittoria, però appunto l'effetto trascinamento lei lo definisce, però non sarà che sulla Valbisagno l'ipotesi dello Sky Metro che è stata al centro del dibattito può aver aiutato il suo avversario? No, assolutamente. Non ha aiutato e le spiego anche perché. I numeri, guardi, i numeri se guardati bene, in modo scientifico e matematico, sono numeri. Bucci da me riprende gli stessi voti di 5 anni fa, addirittura 100 voti in meno, cioè lui praticamente riesce a portare il voto alle stesse persone che ha portato il voto 5 anni fa. Quindi Bucci muove una minoranza estremamente convinta delle sue idee, ma lo Sky Metro, come anche la riqualificazione dell'ex mercati Corsa Degna, che ci ha diviso copartecipi, a me il sindaco, nella riqualificazione, non ha portato nulla né a me né a lui. Anzi, lei dirò di più che forse la storia dello Sky Metro ha allontanato i cittadini dal voto. Teniamo conto che chiunque ha vinto, chiunque ha perso questa competizione elettorale, da me abbiamo il 39% di votanti, il 61% di astensione è un qualcosa che fa tremare i polsi a livello di democrazia. Che pensa lei? Perché è successo questo? Non sarà un progetto come questo? Io penso che questa è una di tre tante cose che ha allontanato i cittadini perché le ha sentiti comunque estranei a decisioni che gli vengono calate dall'alto. Ripeto, se lo Sky Metro o il prolungamento della metropolitana, togliendo sto Sky che è anche un po' fastidioso, se il prolungamento della metropolitana avesse spostato voti non si capirebbe perché Bucci prende gli stessi voti di 5 anni fa, addirittura 100 in meno da me. Il problema è la coalizione di centrosinistra che perde voti, le do una mia chiave di lettura e la mia chiave di lettura è che noi abbiamo fatto percepire i cittadini che davamo per persa la battaglia comunale e ci concentravamo sulla battaglia municipale. Abbiamo creato nove sfide come nove forti a pace, chiaramente però i cittadini si mobilitano se hanno una visione di insieme di città, non semplicemente per difendere un fortino o per difendere un luogo specifico di un pezzo di città. Quindi i nostri non sono andati a votare in parte perché comunque già sconfortati dal quasi sicuro esito elettorale. Infatti al centrosinistra mancano 2000 voti rispetto a cinque anni fa, mentre Bucci mantiene il suo stesso identico numero. Io me lo spiego in questa maniera, anche cinque anni fa avevo un record di astensione, col 48% ancora diventato il 39%. È aumentato perché tutti coloro, molti che hanno votato Movimento 5 Stelle e che hanno stati portati al voto sull'onda anche della protesta e della rivalza non si sono più ritrovati né nel Movimento 5 Stelle attuale né in altri contenitori. Seconda cosa perché il mio è un territorio semicentrale della città e nelle periferie storiche, senza far nomi, il non voto già da anni lo abbiamo perché il disagio c'è, il non voto è un voto comunque di protesta e una scelta specifica. Questo incremento da me dovuta al fatto che nel mio territorio semicentrale della città si acuita con la crisi e le situazioni legate alla fascia di coloro che fino a qualche anno fa ce la facevano, ora non ce la fanno più. Quindi sono i nuovi, sono i nuovi che si aggiungono a coloro che già non votavano una volta. Il mio è un territorio a San Fruttuoso e Marasso di piccoli commercianti artigiani massacrati dalla grande distribuzione che in questi anni è aumentata, bisogna dirlo, massacrati dalla crisi economica, massacrati dal Covid, dalla situazione post-pandemica, ancora prima della pandemia della crisi economica, massacrati da 12 anni di costanti e continue crisi, in ultima quella bellica. Quindi sono una nuova fascia di popolazione che decidono di andare a votare e non è un caso che io ho il record perché io rappresento quel tipo di cittadini che erano un livello che possiamo considerare piccolo borghese o fatto di un tessuto di commercianti e artigiani che ora è estremamente impoverito ed è caduto in una fascia di grande fragilità. Senta Ferrante, che cosa ne fa adesso di tutti questi voti, di tutto questo consenso e che la portano all'opposizione? Farà opposizione per i prossimi cinque anni? Pensa di tornare alla riscossa più avanti? Pensa invece magari di cambiare anche obiettivo, visto che lei comunque ha dimostrato di avere un seguito, il seguito si può utilizzare anche in elezioni, per esempio ci sono le politiche tra poco, non so se hai velleità di questo tipo, vorrei capire cosa vuole fare da grande Ferrante. Ma tanto per cominciare Ferrante ha la fortuna che ha continuato a fare con grande fatica la sua professione di architetto in questi anni, non ho mai smesso di farlo, a costo di lavorare fino a mezzanotte nel mio ufficio, chi passava davanti al mio studio in via Torti vedeva la sera le luci accese, io non ho mai smesso di lavorare, di fare la mia professione, io lavoro solo con privati, non ho mai avuto a parte pubblica quindi nessun tipo di conflitto, interessi, altrimenti sarebbero stati tirati fuori senza problemi. Io continuo a fare la mia professione, dopodiché mi confronterò sia con gli alleati, soprattutto con i consiglieri del Partito Democratico, ma anche con quelli della mia lista che si sono impegnati con me, la lista Ferrante. Io ho la fortuna di essere anche nella segreteria provinciale del Partito Democratico, quindi di essere un dirigente del Partito Democratico sicuramente aumenterò il mio impegno a livello politico, ho una storia di amministratore pubblico alle mie spalle che non viene solo dai dieci anni da Presidente, ma ancora prima nella mia presenza in provincia di Genova, dove ero oltre il consigliere anche Presidente della Commissione Lavori Pubblici e direi che vorrei concentrarmi anche su una parte nuova della mia vita che è quella di occuparmi un pochino di più della parte politica del mio partito, che non vuol dire abbandonare il municipio, vuol dire essere una guida, vuol dire essere presente per tutti i consiglieri che hanno anche poca esperienza, ma io non credo nelle leadership imposte, credo che le leadership siano naturali quando ci sono sul territorio e penso che non necessariamente bisogna occupare un luogo fisico per dare una linea sul territorio. Per lo più obiettivi specifici nell'immediato non ne ho, tranne in quello che è l'impegno sociale e politico, perché quando uno dedica tanti anni alla politica, all'amministrazione, come dire, ce l'ha nel sangue, è la passione, io amo in maniera sviscerata i miei quartieri, ritengo di aver dato un impulso enorme alla riqualificazione di San Fruttuoso Marassiquezzi, ho faticato molto gli ultimi cinque anni nel non dialogo con l'amministrazione comunale centrale, se comunque ho avuto tanti voti personali e anche quelli della mia lista, sicuramente come dire, questo mi è stato accreditato, sicuramente intorno a me non ha retto il sistema dei partiti del centro-sinistra, questo è evidente, vedendo i numeri, se la mia lista dopo il PD l'ha più votata c'è qualcosa che non va nelle altre liste. Però in questo momento non ho obiettivi così specifici, così immediati e tantomeno, guardi, glielo dico, credo nelle rivincite, io penso che cinque anni siano un tempo francamente molto lontano per immaginare scenari, auguro buon lavoro a chi mi dovrà sostituire, che avrà la fortuna. Ecco, io ho ancora un minuto e mezzo o due, le volevo chiedere appunto cosa mi dice del nuovo presidente Guidi, se ha, se siete sentiti, se... Ma guardi, il nuovo presidente si lamentava di mancanza di frapple, io ho ricordato ai giornali che io il frapple l'ho avuto, o mi sono complimentato con Bucci, perché è chiaro che qui vince Bucci, lui perde 2500 voti rispetto ai voti di Bucci e è un effetto trascinamento. Vale per lui come vale per il collega della media Valbisagno, vincono per effetto trascinamento, né più né meno, non aggiungono nulla. Io mi auguro che possa avere, ha la fortuna di poter vivere per un po' di tempo anche di rendita con tutto il lavoro di reti che abbiamo creato, dal Forti Santa Tecla di cui se ne è parlato ieri, a tutte le reti sociali, social market, tutto il lavoro immenso di riqualificazione di piazze e giardini, diciamo che tranne il prolungamento della metropolitana, che in Bassa Valbisagno è molto più attesa la fermata di Piazza Martinez che quella della Valbisagno, perché la prima fermata avrebbe già Staglieno e quindi non tocca minimamente alla Bassa Valbisagno, io gli auguro di avere l'umiltà di confrontarsi in maniera sana anche con chi farà opposizione, perché dentro ci sono persone di grande esperienza. Poi ripeto, lui avrà la fortuna che non ho avuto io dieci anni fa di beneficiare di un grande lavoro che trova, gli auguro di poter avere cinque anni tranquilli, io ho avuto alluvioni, pandemie e mille crisi e mille problemi e sicuramente la fortuna di avere un ottimo ufficio e un'ottima rete sociale, ora stiamo vedendo il Forti Santa Tecla, è l'ultimo lavoro che abbiamo fatto, siamo riusciti ad aprirlo con una rete di associazioni al territorio, con un patto di collaborazione con il municipio, le associazioni e l'area tecne, il municipio, hanno lavorato alle cremente, è stato l'ultimo obiettivo che gli ho portato a termine, oltre le riqualificazioni sul territorio, l'apertura di un forte che poi è l'unico forte raggiungibile a livello carrabile. Quindi, come dire, auguro non tanto a lui, ma quanto al territorio che si possa continuare a essere comunque un territorio vivo e un territorio comunque che possa dare anche un impulso alla città. Per il resto, guardi, mi auguro che tutti quanti comunque non ci montiamo la testa a chi ha vinto e chi ha perso, perché il vero problema è che chi vince e chi perde, vince e perde col 39% di votanti. Bisogna farsi un'analisi seria su qualsiasi 61 che manca, perché di fatto qualsiasi 61 che manca al voto delegittima tutti quanti. Grazie mille Massimo Afferrante, bocca al lupo. Tra poco andremo al municipio Ponente, dove è successa una cosa analoga. Restate con noi. Tornati in diretta, dopo l'assessore Gianpedrone e dopo il presidente Ferrante, tocca a Claudio Chiarotti nel nostro racconto anche delle notizie negative, almeno per chi le ha vissute. Buonasera Presidente Chiarotti. Buonasera, buonasera a lei direttore, buonasera a tutti. Com'è stato possibile che un municipio così radicato, almeno secondo la vulgata, nella sinistra, si sia perduto e si sia lasciato perdere in questo modo? Beh, allora, c'erano, matematicamente, parliamo di matematica, no? C'erano algoritmi che dicevano che se Marco Bucci dava 15 punti percentuali all'ideale dell'astrologo, i municipi erano persi sostanzialmente tutti. Peraltro il risultato che aveva sostanzialmente fatto Totti, quella, quando nelle regionali di un anno e mezzo fa andò così, cioè non avevo municipi a zero per il centro-destra. Poi c'è un modo per perdere, sicuramente io sono l'unico presidente di quegli sconfitti che è arrivato molto il molto litrofo a non perdere, sono 109 voti su 20.000, sono veramente un'inizia. Questo è quello che dispiace perché scontrarsi col voto d'opinione, che peraltro sono riuscito a recuperarne tanto di quel voto lì, insomma voi pensate che a volte ha vinto Ariel, quindi se voi considerate che a volte ha vinto Ariel, io ho 109 voti di distacco, ho 0,45, vuol dire che a Barbazza gli recupero 7 punti percentuali su Pegli e Pra, nonostante a Pegli, il centro-destra ha schierato le prime donne, insomma, nella lista Bucci con Gozzi, Avenente. Abbiamo comunque fatto una campagna elettorale e il risconto è buona, secondo me, poi naturalmente ci sono un paio di cose che assolutamente forse andavano affrontate in un altro modo, soprattutto in quel di Multedo. C'è la grandissima partita di quello che è successo ai 6G, io ritengo questo tornato elettorale che dovrebbe essere un momento di riflessione profonda per le forze politiche, sia di maggioranza che di minoranza, perché effettivamente quello che è successo ai 6G deve porre una riflessione. Io contesto anche il mio segretario nazionale quando esulta clamorosamente per le vittorie di Tommasi, insomma, nelle grandi città. Qua la grande vincitore purtroppo è l'astenzionismo, quindi vuol dire che né noi né loro sono voluti dalla città. Questa è una riflessione delle forze politiche che devono avere il coraggio di fare fino in fondo. Secondo me non ne parliamo, ma con quello che è successo ai 6G e il 46% dell'associazionismo su una città come Genova, minimo, minimo, minimo la riflessione la devi fare. Ecco, ma questa cosa, entriamoci, visto che l'ha citata, insomma, questo testa a testa con le polemiche anche che si sono aperte per appunto queste schede, è una cosa che fa ancora rabbia che, io ho letto delle sue dichiarazioni nel post voto, bisognerebbe in un paese normale rivotare per i municipi. Lo pensa ancora o erano dichiarazioni, diciamo, dell'immediato post? No, no, lo pensa ancora. Lo pensa ancora semplicemente perché chi fa politica, chi fa amministrazione, poi è vero che ormai sta degenerando e abbiamo un sindaco che dice che non è politico, abbiamo un presidente del municipio a Ponente che adesso dice di non fare politica, però i dirigenti fanno scelte amministrative e tecniche. Noi quando copriamo questi ruoli facciamo sostanzialmente scelte politiche per l'amministrazione. Quindi secondo me chi fa questo mestiere è il momento più alto di questo mestiere quando si va a fare la proposta e ai seggi il cittadino in maniera assolutamente democratica sceglie. Poi capite bene che in un municipio come al Ponente dove viene a scoprire che 400 persone hanno votato solo per il comune, ora io immagino che io nei guida eravamo amatissimi magari dalle persone che si recavano ai seggi, ma pensare che 400 persone hanno votato solo per il comune mi viene in mente che non gli è stata data la scheda rosa. Tradotto, andavano nei seggi, voglio votare solo per il comune, che voleva dire non votare per il referendum. Gli veniva consegnata solo la scheda azzurra, non in mala fede, semplicemente per una poca capacità e conoscenza di quel tipo di materia. Quando sei presidente di seggi e sfruttatore hai un ruolo importantissimo e lo dovresti svolgere nel pieno delle tue capacità. Secondo me questo non è successo, perché qua 400 schede non date per il municipio sono obiettivamente tanti. Non è una questione di polemica o di avere il dente avvelenato, è un dato di fatto. Perché non è mai successo che a Ponente 400 persone abbiano votato solo per il comune, semplicemente perché forse è la prima volta che si è votato con un referendum alle spalle e questa roba qua ha creato confusione nell'elettore. Chi è che gli leva la confusione all'elettore? Chi è stato dentro lo seggio. Con quello che è successo, mai passati dieci giorni per decretare sostanzialmente, proclamare il vincitore? No, questa roba qua veniva licenziata grossomodo nelle 36 ore successive. Non è successo perché anche tra verbali e fonogrammi mandati c'erano discrepanze. addirittura la notizia che durante questa presa d'atto che devono fare i dipendenti comunali in quelle del tribunale hanno dovuto aprire e addirittura scrutinare proprio delle sezioni. Non l'hanno potuto fare tutto, l'hanno dovuto fare semplicemente per scrivere qualcosa. Era impossibile poter scrivere qualcosa. Questo vuol dire che nei seggi qualcosa che era andato c'è stato. E nella Repubblica delle Banane sta roba qua funziona. In una Repubblica come la nostra non dovrebbe succedere. O meglio, su tanti seggi può succedere un caso, ma che un consigliere di centro-destra non si trovi alla propria preferenza, quindi esco fuori dalla dinamica di centro-sinistra, pensare male se fa peccato qualcosa ci si azzecca. Per quello dico che in un paese normale, in una condizione del genere, soprattutto perché poi intendiamoci, se i distacchi fossero stati quelli che Buccia è data da Riel, boh, te ne fai anche un po' una ragione, perché difficilmente, matematicamente, si possono limare quelle distanze. Ma effettivamente, quando i voti sono 109, in una sezione di multietro 50 schede nulle, insomma, che magari poi sono voti di barbazza, non anche i miei. Però sarebbe più bello, anche perché, secondo me, se noi non facciamo chiarezza da questo punto di vista, la prossima volta saranno ancora meno le persone che si elecano alle urle. Si chiedeva il voto, che immagino che ormai ci siano più i fan che gli elettori a questo punto, andando di questa degene. meno. Eh, se non manco più quando vai al seggio e pensi che il tuo voto sia garantito da chi deve scrutinare o presiedere il seggio, diventa complicato. La mia paura è che praticamente le istituzioni, e la politica in senso generale, ma le istituzioni in maniera particolare, vengano poco a poco abbandonate davvero. E i pochi decidono per i tanti. Questa roba qua, in democrazia, una democrazia sana, non deve succedere. Chiarotti, mi aggiorni per chiudere un po' su di lei. Lei adesso chiaramente fa opposizione all'interno del suo municipio. Pensa, come dire, di organizzare la riscossa. Il resto è andata male, dal vostro punto di vista, per tantissimi municipi. Sette su nove, perché poi evidentemente, al di là di ogni altra considerazione, il traino del sindaco incide certamente anche sui municipi. Nel suo caso pensa appunto di costruire un'opposizione che possa riportarla a governare o non ci sta ancora pensando a questo? Pensa ad altro, magari ad altre elezioni? No, no. Io naturalmente, come dicevo anche in campagna elettorale, cosa che peraltro non ho sentito dire dal mio amico Guido Barbazza, io avevo garantito che comunque sia, dato che l'ho fatto i 15 anni prima di fare il presidente, sono disponibile a fare ancora cinque anni il consigliere, lo farò di opposizione, è la prima volta che mi capita, però l'esperienza per farla non ho problemi a dover fare cinque anni il consigliere, non è che penso troppo in là. Le cose io le cerco di fare in quello che mi viene presentato nell'immediato. Riscossa? Sì, riscossa. Più che altro dare veramente voce perché, diciamocelo, io nel programma di Guido Barbazza del centro-destra vedo un tunnel sotterraneo per eliminare il traffico a Voltri. Ora, se torniamo a parlare di cose un po' più serie, visto che non ci sarà mai nessun tunnel sotterraneo a Voltri per eliminare il traffico, bisogna tornare a parlare di cose concrete, nel ruolo ad esempio dei municipi, su questa cosa qua Guido mi troverà assolutamente dalla sua parte se vivere a fare questa battaglia, perché è la battaglia in una città metropolitana, io nel mio ruolo da consigliere di opposizione porterò a continuare a fare questa battaglia. L'ho fatta da Presidente, qualcuno dice che c'era contrasto ideologico rispetto alla giunta Bucci, non era assolutamente vero. A parte che io non mi vergogno di avere un'appartenenza ideologica perché secondo me è quello che serve in una sana democrazia, cioè non possiamo pensare proprio tutti uguali, perché se andiamo a pensare unico diventa complicato. Ma è anche vero che chi ha un ruolo, tanto sono scelte politiche, bisognerebbe un po' smetterla di denigrarla sta politica, nel senso che chi va a fare questo ruolo, che sia un consigliere di maggioranza di opposizione, fa amministrazione e fa scelte politiche. La scelta politica per me è l'unico posto dove possiamo andare con i municipi e tornare ad avere i municipi protagonisti della vicenda amministrativa genovese, quello che piano piano è stato cancellato in questi cinque anni, con quello che ne è successo poi. Perché i problemi poi si vedono, nel senso che adesso sento il mio assessore avvenente che parla degli sfalci, insomma sarà cinque anni che dico a questa amministrazione che hanno scelto un percorso che non garantisce né al municipio né alla città tutta un decoro come si deve. Ma questa roba qua la fai quando il municipio torna a essere davvero protagonista della vicenda amministrativa, non può essere un passacarte. Quindi se io dovessi dare un titolo alla mia vicenda da consigliere di opposizione porterò questa grande istanza. Se Guido Barbazza è da questa parte mi troverà assolutamente incostruttivo. Se non ci sarà continuerà a fare questa battaglia perché, badate bene, non lo faccio, non lo dicevo da Presidente, lo ridico adesso da consigliere, non lo dico mica per Claudio Cherotti, io lo vedo che vive la città, vive nei municipi, vive dei servizi che il municipio può offrire, vive delle scelte che il municipio fa. O il municipio conta, ha diciamo un po' di autonomia, un po' di risorse economiche umane per poter affrontare le vicende o altrimenti il sindaco Buci faceva meglio a dire che è un'idea, io non la condivido, ma poteva essere assolutamente un'idea rispettabile quella di amministrare la città dal punto di vista assolutamente centralista e cancellare i municipi che lasciano per l'energia. Oggi, lo dico anche da ex Presidente, soprattutto negli ultimi due anni, ha un poco, veramente poco senso i municipi. Grazie Cherotti, grazie Cherotti, chiarissima la sua posizione. Grazie a voi per l'opportunità. Bocca Lupo, grazie all'ex Presidente del Municipio Ponente, oggi leader dell'opposizione nello stesso municipio. Tra poco torniamo a parlare della diga foranea. Si farà?